ciao a tutti a tutti io sono francesco volevo parlare di una cosa è successo nel video della mia ragazza che ho detto che il trucco è una cosa da donne allora io non è che sostengo il trucco in tutto e per tutto e qualsiasi tipo di trucco sia una cosa da donne ma principalmente mi riferivo al rossetto all'ombretto determinate cose come il fard queste cose di questo tipo e mi dispiace se avete pensato che fosse una cosa offensiva nei confronti delle persone ma io non sono razzista in alcun modo di questo tipo anzi però però la faccenda si è svolta così che io volevo onestamente passare del tempo in più a quello che già passavo con la medi ma abbiamo avuto una discussione al mattino e ero abbastanza arrabbiato poi lei mi voleva far fare il video contro voglia e logicamente per questo io ho dichiarato di essere stato tra l'altro costretto a fare questo video il punto è che se una persona fa una cosa contro voglia in alcun modo non solo la fa male ma tu non può neanche essere contenta di farlo comunque in sintesi questo video in tutti i casi non sta a significare il fatto di essere razzista sto solamente spiegando il mio punto di vista e questo è tutto ragazzi ovviamente mi riscuso un'altra volta per aver essermi per essermi espresso male in ogni caso e questo è tutto arrivederci ragazzi bello a tutti